Il campo basso batte il muro del Celano di Pasquale Luiso a quattro minuti dalla fine al termine di una partita abbastanza abulica da parte Rosso-Blu. Non una tra le migliori prestazioni, l'essenziale era centrare un successo che equivale al diciassettesimo punto interno stagionale. La vittoria, firmata dal sesto gol di Miani, prelude alla trasferta Civitanova-Marche e nel contempo certifica l'ottimo campionato dei Lupi a quota 29 a 2 dal giro di Boa. Al quarto ci prova Di Gennaro ma la palla scorre a lato dalla porta del Celano. Al tredicesimo Di Gennaro chiede un penalti per una presunta spinta ai suoi danni di Villa per il bolognese degli esposti. Non ci sono vizi. Al venticinquesimo ci prova Todino con il sinistro ma è troppo centrale per infastidire Amabile. Due minuti dopo sfera avvitata da Pani e Nicolai che alza altissimo sulla traversa un ottimo pallone. Il campo basso fatica a produrre gioco il Celano. Pressa con insistenza ai Rosso-Blu e gioca una gara molto attenta. Mezz'ora circa per la palla golla avuta da Todino. Posizione laterale conclusione respinta da Amabile. Fuori tempo Di Gennaro e Lazzarini sulla ribattuta. Al quarantunesimo buona l'intesa da fermo tra Todino e Di Gennaro ma quest'ultimo manda a lato da posizione certamente favorevole. Si chiude con questa punizione. Troppo centrale di Fusaro. Uno scherzo la parata di Amabile. Si va al riposo dopo un solo minuto di recupero. Farina provvede a fare entrare Cianci per Di Gioacchino dal primo della ripresa. Il passo del lupo non cambia così il tecnico sceglie di estromettere Lazzarini per inserire Miani. Tutto questo dal tredicesimo. Al diciottesimo tiro fuori misura da parte del neo entrato Ippoliti nel Celano. Farina aveva già esaurito i cambi qualche minuto prima con l'ingresso di Fazio in luogo di Pani. Il tecnico prova in tutti i modi a imprimere la sterzata a un campo basso privo di gioco. Il Celano disputa una partita nella norma e nei limiti delle proprie possibilità. Al ventunesimo pallone smistato da Cianci per poco da Damo non devia nella propria porta. Un minuto dopo Di Gennaro fa proseguire per Miani. Tuffo di testa ma Amabile para da due passi. I lupi ora iniziano a creare. Al ventiquattresimo Todino vuole colpo da biliardo ma proprio non gli riesce a pochi metri dalla porta. Alla mezz'ora la torre sempre di Di Gennaro. La girata di Miani ma la palla è sporcata prima della parata di Amabile. Al trentatresimo troppo flebile il diagonale di Luzzi, Paraconti, Male Fazio da fermo. Al trentanovesimo quando inizia l'inesorabile conto alla rovescia verso il novantesimo. Al quarantunesimo il gol partita del campo basso dal cross di Todino. Origina un tocco numero uno di Miani. Un altro di Marinucci per lo stesso Miani che scarica in rete di sinistro. La rabbia vincente che significa vantaggio del campo basso. La Nord esplode di gioia per il gol in zona. Cesarini Farina inveisce contro qualche spettatore della tribuna dopo il gol. Un gesto certamente da stigmatizzare da parte dell'allenatore rosso-blu. Al secondo dei tre minuti di recupero comandati triangolo rapido tra Todino e Fazio con quest'ultimo che chiude a lato la bella azione di marca Campobassana. Successo pesante per morale e classifica. Il toro di Sora Pasquale Luiso dice di non poter rimproverare nulla ai suoi. I lupi rimangono nelle zone nobili della classifica all'entusiasmo. Rimane palpabile e facile prevedere un altro pubblico massiccio al comunale di Civitanova Marche domenica prossima.